Buon pomeriggio da Gianluca Verna, ben ritrovati dallo Stadio San Paolo. Dopo la sosta nazionale è tornato il Napoli e quindi naturalmente torniamo anche noi di Battiti Azzurri. Due settimane fa ci eravamo lasciati con un preciso input, sapevamo che dopo la pausa il Napoli sarebbe stato atteso da due sfide particolarmente importanti, due partite da vincere assolutamente per proseguire il cammino in campionato e in Champions League. La squadra partenopea non ci ha deluso, è stata in grado di regalarci quei Battiti Azzurri che ci consentono di conservare la vetta della classifica in Serie A e di continuare a sperare di lasciare ancora aperto il discorso qualificazione in Coppa dei Campioni. Adesso il Napoli dovrà battere il Feyenoord e sperare che il Manchester City faccia altrettanto con lo Shakhtar Donetsk. Nel frattempo però una certezza è arrivata, con la vittoria sulla formazione ucraina il Napoli continuerà matematicamente il cammino europeo perché almeno l'Europa League è messa in cassaforte. Analizzando gli aspetti positivi delle due partite del Napoli, una menzione speciale non possiamo non farla a Lorenzo Insigne. Il talento di fratta maggiore si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle. Ha segnato al Milan e poi ha fatto un grandissimo gol, un gioiello di rara bellezza con lo Shakhtar. Una rete anche decisiva perché incassata quella gli ucraini sono letteralmente crollati, si sono sciolti come neve al sole. Lo stato di forma di Insigne è sotto gli occhi di tutti. L'unico che sembra non essersene accorto purtroppo è l'ormai ex CT della nazionale Ventura. Un vero peccato non schierare Insigne nel doppio confronto con la Svezia che è costato poi l'eliminazione all'Italia dalla rosa delle partecipanti al prossimo mondiale. Due reti non solo per Lorenzo Insigne ma anche per Piotr Zielischi. I battiti azzurri del Polacco sono un'altra nota estremamente positiva della settimana del Napoli. Dopo l'inizio di stagione non esattamente all'altezza delle aspettative ritrovare il Polacco sarebbe un'ottima notizia per Maurizio Sarri che in futuro potrebbe scegliere di premiare la sua d'utilità inserendolo anche nel tridente offensivo dove ormai come sappiamo giocano praticamente sempre gli stessi tre. Ultimo aspetto da sottolineare ma non certo per importanza è il rendimento difensivo. Questo Napoli è solido. Al Milan e allo Shakhtar Donetsk ha concesso poco e niente. L'unico gol subito è frutto di un episodio di un tiro dalla distanza sul quale tutto sommato è incolpevole il pacchetto arretrato azzurro. Bisogna continuare su questa strada. Adesso ci saranno due sfide con due formazioni bianconere. Chiaramente la più attesa è quella del primo dicembre al San Paolo già previsto il tutto esaurito con la Juventus ma per arrivarci nel modo migliore bisognerà ottenere un successo convincente nella trasferta di domenica in casa dell'Udinese. Una gara da non sottovalutare e da affrontare assolutamente con la stessa attenzione delle grandi partite. Grazie a tutti.